Masters, i dominatori dell'universo. He-Man, He-Man. Masters of the Universe. I dominatori dell'universo. Ciao, ninja amici. Avete ancora voglia di parlare di Masters? Spero di sì, perché sono con oggi, tre settimane in fila, che vi propongo un video spontaneo sui Masters in cui parliamo di una serie di concetti. Il discorso è che io avevo fatto quel primo video sulla fine della linea, cioè sulle ultime cose uscite, le avevamo viste insieme con numerose immagini, filmati, eccetera, e poi settimana scorsa ho fatto uscire, un po' a sorpresa, perché in effetti era previsto per dopo, ma avevo voglia di parlarne, un altro video dove ipotizzavo, anche sulla base però, di informazioni vere, reali, risapute, il perché la linea dei Masters sia terminata improvvisamente, quali possono essere state le cause, eccetera, eccetera. Ora, oggi voglio fare una sorta di terzo capitolo conclusivo del discorso, gli ultimi Masters usciti, perché la linea è finita, e a questo punto anche i Masters nel tempo, nel futuro, ma anche nel presente attuale, attualissimo, oggi. In che modo? Nel modo che intendo un po' io, cioè... Cosa è successo una volta che i Masters sono finiti? Quale amarezza ci è rimasta? Cosa speravamo che uscisse? Cosa è effettivamente uscito che ci ha più o meno delusi, o che non ci è piaciuto? Perché vi faccio tutto questo discorso? Perché credo che sia connesso intanto ai primi due video fatti, ma il punto cruciale qual è? Che oggi stanno uscendo un sacco di cose sui Masters, ne abbiamo già parlato in altri video, ma la verità è che personalmente ritengo che tutto quello che sta uscendo oggi, quasi tutto, faccia veramente pena, ma proprio pena, ma pena così pena che se anche qualcuno mi regala quella roba io non so cosa farci. E la cosa che mi dispiace è che ci sono stati un paio di piccolissimi eventi nel corso degli anni che ci hanno fatto ben sperare. Qualcosa è uscito fortunatamente, vediamo poi che cosa. Ma lo stato attuale delle cose è che gli stessi fan traditori, traditori e, perdonatemi, anche un po' ignoranti, si stanno affezionando o pensano che si possano sostituire i vintage con delle cose schifose attualmente sul mercato. Non dico ignoranti, nel senso siete ignoranti, andate a fare il culo. Dico ignoranti nel senso, nel vero senso della parola. Ignorate che cosa c'è dietro e quindi vi fate andare bene quello che sta uscendo. E non so neanche se si può giustificare questa cosa con un discorso di soldi. perché alla fine molti degli Origins già oggi costano un botto e con la stessa cifra vi comprate un vintage tenuto perfettamente. Ripeto, non voglio insultare nessuno, lo dico ancora e ancora, non sto insultando nessuno, non vi sto dando degli ignoranti se collezionate gli Origins, anche perché ho molti amici che li comprano, quindi non è che sto dando del cretino a ogni mio singolo amico che colleziona gli Origins. Dico solo che non so quante persone veramente si rendono conto di quanto sia importante il vero spirito dei Masters classici, dei veri Masters, gli unici veri soli. Quindi vediamo questa differenza tra reinterpretare questa linea sempre nel modo sbagliato e oltretutto basandosi su una serie di cose uscite negli ultimi anni che sono a dir poco discutibili, vediamo anche quali cose erano azzeccate, quali cose potevano andare bene o sono andate bene e poi c'è un altro piccolo discorso da fare che non riguarda propriamente i Masters, ma ve lo cito lo stesso perché è importante e speriamo bene, speriamo bene che in futuro qualcuno si accorga di tutte queste cose. Ora, prima di iniziare, è chiaro che questi sono solo i miei punti di vista. Probabilmente qualcuno starà pensando ma che cazzo vuole questo? Ma chi è? Ma chi si crede di essere? Ma che cos'è? La sua opinione? No, ma ragazzi questo è il mio canale, sono qui a parlare dei cazzi miei, di quello che penso, oltretutto tanta gente vuole sapere queste cose. Molti di voi, anzi vi ringrazio, mi hanno detto ah racconti le cose come non le racconta nessuno, io davvero vi ringrazio. Sapete perché? Perché io semplicemente vi dico quello che penso senza preoccuparmi delle conseguenze fondamentalmente, perché sono una persona molto diretta, sincera e onesta, e cerco sempre di dire quello che mi passa per la testa, e poi se a qualcuno non sta bene, pazienza a fare i suoi, non mi interessa, ci sono un male di cose che a me non piacciono, di quello che vedo in giro, ma non è che gli altri se ne preoccupano, quindi, amen. Ognuno può esprimere la sua opinione, soprattutto nei video che fa, che monta a fatica, e sul canale che ha tirato su dopo anni e anni di duro lavoro. Quindi, facciamo questa analisi, scusate l'intro, forse è un po' antipatico per alcuni, non prendetelo male, non c'è niente di aggressivo nei confronti di nessuno, ripeto. E' solo che, come vi ho detto tante volte, c'è sempre molto rancore, quando parlo di Master, ho sempre un po' le palle che mi girano, perché non sono contento di quello che vedo, non sono contento di quello che leggo, ci sono alcuni fan che sono veramente preparatissimi, che amano davvero la linea per quello che era una volta, e altri che invece, mi piace ogni Master, se poi compra delle merda incredibili, apprezza dei prodotti improponibili, dei personaggi insopportabili. E io dico, ma voi non siete fan dei Master, ma di che cosa siete fan esattamente? Voi siete fan di un'immagine che avete nella testa, completamente contorta, e attenzione, non stiamo parlando di scienza, o di filosofia, o di letteratura, o di storia dell'arte, di cose un po' importanti, stiamo parlando di giocattoli, va bene, ma visto che questo è un video sui Master, allora parliamone come si deve. Cominciamo. Dunque, da dove posso cominciare? Anzitutto, magari, se volete, guardatevi il video del 1982, che è sempre consigliatissimo, qui sul canale, perché parla della prima wave, ma anche del modo in cui era stata concepita, del perché certi personaggi erano importanti, quali erano le loro origini, quali eredità culturali pop si portavano dietro, in particolare i men, ma anche Scheleton, un po' tutti in effetti, ma i men più di tanti altri, perché i men doveva rappresentare una sorta di best of di tutti gli eroi usciti in precedenza, di svariate generazioni, perché andiamo da cose molto antiche, come, che ne so, Buck Rogers, piuttosto che Flash Gordon, piuttosto che Conan il Barbaro, a cose che poi erano uscite anche dopo, come i cartoni dell'Anne e Barbera, usciti negli anni seguenti, certi film, insomma, c'era tanta roba, quindi è importante vedere quel video lì, per capire un po' di più il concetto, ma il discorso qual è? Allora, se reputiamo che i Masters of the Universe, siano una linea di giocattoli, sempre bellissima, che è stata veramente dirompente negli anni Ottanta, ha veramente spaccato in due, nel senso che nessuno era rimasto, come dire, illeso di fronte a potenza, potenza, di questi giocattoli, voglio dire, i Man e Skeletor erano due figure pazzesche, che non potevano che impressionare un bambino, ma voglio dire, ma veramente, ma sicuramente 99 bambini su 100, ora io per esempio ho il mio miglior amico Julien, Joy, del canale, che è colui che ha composto le musiche che usiamo, ma Joy per esempio da bambino aveva pochissimi Master, non era particolarmente impressionato, mentre invece giocava tantissimo con i Lego, con i Playmobil, gli piacevano i Mask, gli piacevano, cosa gli piacevano? I Big Jim di più, quindi lui aveva evidentemente una testa di bambino più propensa a fare altri tipi di giochi, ok? Siamo tutti diversi, non c'è nulla di strano, però sinceramente la maggior parte dei bambini che conoscevo io, i miei amici, anche alcune mie amiche, quando ero bambino, impazzivano per i Master, impazzivano, perché erano fatti in questa maniera, come dire, ogni personaggio era veramente facile da distinguere, cioè, i colori erano forti, le plastiche erano lucide, i personaggi erano ben caratterizzati, era impossibile confondere un Whiplash con un Clawful, o un roboto con uno Spycore, voglio dire, erano veramente ben fatti, ben studiati, se adesso vi dico, per esempio, prendetemi la prima wave di personaggi G e Joe, e voi non conoscete bene i G e Joe, a colpo d'occhio li confondete tutti, non li distinguete, vabbè, tranne Snake Eyes perché è tutto nero, e Scarlett perché è l'unica donna, ma tutti gli altri fate fatica se non li conoscete, poi se siete fan dei G e Joe come me, basta uno sguardo, ah, quello è Flash, ok, va bene, quello lì è Hawk, ok, ma, per quanto concerne i Masters, invece c'era grande differenza, ed era sempre fantastico, poi, le pubblicità, i cartoni animati, i cataloghi, i veicoli, le creature, le tigri da battaglia, le pantere da battaglia, il castello di Grayskull, e poi la cittadella, Eternia, i fumetti che uscivano un po' dappertutto, i mini comics che erano direttamente dentro i giocattoli, dietro c'era un background che era veramente impressionante, era veramente, era, era proprio come essere al teatro e vedere dei bravissimi attori con dietro una scenografia incredibile, delle musiche pazzesche, sono tutti piccoli elementi che servono per creare una grande opera, un po' come quando guardiamo un bel film al cinema, voglio dire, che cosa valutiamo quando siamo al cinema? valutiamo gli attori, la regia, la fotografia, le musiche, ovviamente la storia, quindi la sceneggiatura, magari qualche dettaglio qui e là, gli effetti speciali, il sonoro anche, sono tutte cose importantissime, e i masters erano una linea di giochi che aveva il pregio di avere tutti questi elementi, perché, cioè, pensateci un attimo, certi giocattoli, anche quando erano belli originali, uscivano e finivano, voglio dire, prendiamo, che ne so, che esempio vi posso fare, prendiamo i mostroidi, ok, all'inizio ne sono usciti sei, poi altri sei ricolorati, erano dei giocattoli carini originali, dei mostri, degli alieni, che si chiudevano in questa specie di meteora, ok, che si apriva, da noi non avevamo la percezione della meteora, ma in originale era così, scusa se non riesco a parlare, mi sono rincoglionito oggi, quindi, questa cosa qua, anche se il giocattolo poteva essere carino, è uscito e basta, è sparito, perché? Perché non era supportato da un cartone animato, dai mini comics, non c'era un background, giocava tutto su una singola funzione, che una volta scoperta, giocata un po', finiva, poi beh, lasciamo stare che la qualità era inferiore, ma, capite cosa voglio dire? Cavolo, i masters avevano dietro tutta questa cosa, avevano la loro scenografia, le loro musiche, la loro regia, la loro fotografia, i loro effetti speciali, avevano davvero gli effetti speciali, i masters avevano degli effetti speciali, le gimmick, le musiche, He-Man, He-Man, Bo, 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 Ma sapete quanto mi piace quell'intro? Lo uso sempre perché è stupendo, sapete che da quando sono bambino, che quella cosa lì è dentro la mia testa, poi riascoltando sempre la cassetta, l'audio cassetta, questa qua, vi ricordate? L'abbiamo vista insieme, ecco, He-Man e il labirinto, nella mia testa c'era la musichetta, perché questa inizia così, Masters, i dominatori dell'universo, He-Man, He-Man, Pa, 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 ecco, quindi, anche le musiche, accidenti, poi, ogni volta che c'era una pubblicità, un altro film nella testa, ogni volta che c'era una foto sul giornalino più o su Topolino, un altro film, ogni volta che leggevo un minicomics, si aggiungeva nella mia mente un pezzo di storia, e io lentamente mettevo insieme i pezzi, certo, molte volte questi pezzi non erano coerenti e questa è una cosa di cui un giorno parleremo l'incoerenza nel mondo dei masters l'incoerenza assoluta tra i vari media le varie storie tutte le cose che sono uscite quindi già questo era bello questo era bello non tante linee di giocattoli potevano vantare una cosa del genere non voglio dire il transformer, si tartarug ninja, si già Barbie era un po' diverso anche Big Jim, le cose erano un po' più così, open tornando al discorso, questa linea è uscita negli anni 80 con tutti questi elementi che si porta dietro un background pazzesco ora, col passare degli anni noi siamo stati felicissimi vedevamo uscire nuovi veicoli, nuovi personaggi nuovi playset, accessori qualche creaturina c'erano armi, armature, colori tanti prodotti a un certo punto è uscito appunto abbiamo detto il film, c'era il power tour c'erano libri, fumetti, racconti c'era di tutto c'erano le gommine c'erano i temperini c'era tanta di quella roba da riempire la nostra vita i masters erano ovunque come ci giravamo trovavamo qualcosa dei masters che ci piaceva che ci rendeva felici che ci entusiasmava poi la linea è finita purtroppo a un certo punto new adventures come abbiamo detto l'altro giorno i new adventures sono stati bruttissimi perché hanno cambiato i men cioè i men è diventato da guerriero muscoloso con mutandone di pelo eccetera eccetera è diventato un fricchettone col pudino perché pettinato minchia rovinami un guerriero figo vallo a pettinare col pudino ridicolo bruttissimo questa roba qua dorata sul petto da una parte sola i pantaloni blu ma neanche i pantaloni i pantacollam i fuso che cazzo era quella roba lì che cos'era Batman degli anni 60 ma che brutto perché ok me lo devi fare nello spazio ma fai una roba un po' più figa madonna cioè di eroi spaziari ne abbiamo avuti i bill e mila nella storia dell'immaginario della cultura pop i menu adventures sei il più brutto di tutti nessuno è così cesso veramente ma chi l'ha studiata sta cosa che cazzo si sono fumati quali droghe pesanti hanno utilizzato mescolandoli con alcol e mentos cioè veramente che cosa hanno fatto Skeletor mamma mia cioè poverino anche lì si poteva fare un pochino meglio a parte che Skeletor è diventato completamente ridicolo io vi ricordo attenzione che voi non potete dormire bene la notte non potete perché esiste il cartone animato New Adventures e se non ve lo ricordate andate su youtube a guardare che razza di ciofeca che era che sempre sarà cioè di una bruttezza infinita a parte che poi tutti i masters erano spariti non esistevano più i masters ce ne erano due o tre ma poi sostituirli cioè avevano sostituito tutti fondamentalmente ok vuoi vendere nuovi personaggi ma aggiungine ma non è mai stato un problema perché mi devi far sparire Tila Minetarms Meccanek Buzzoff eccetera e mi devi mettere tutti quegli altri brutti fatti male sgraziati noiosi inutili ora io ho capito che come vi ho detto nell'altro video probabilmente c'era anche un discorso di cambio di gusti nelle generazioni forse loro pensavano che i New Adventures potevano avere il fascino dei giocattoli in un mondo che stava diventando videoludico quindi videogiochi ovunque allora loro avevano pensato forse videogiochi alta tecnologia mettiamo i men nello spazio con le astrona ma che cazzo ma questa roba poteva andare bene negli anni 70 anzi 60 ancora di più quando c'erano tutte quelle cose spaziali della Anne Barbera ok che erano anche bellissime tra l'altro ma come puoi pensare che una roba del genere funzioni solo perché ci sono in giro i videogiochi infatti non ha funzionato non piaceva a nessuno non piaceva a nessuno i men New Adventures non piaceva a nessuno io non ho mai conosciuto nessuno che mi abbia detto veramente adoro quella linea di giocattoli anche oggi conosco qualcuno che li colleziona ma non ho mai sentito parlare in maniera oh mio dio quanto mi piacciono come sono belli ma ti rendi conto i New Adventures sono veramente una no fanno schifo fanno schifo soprattutto fanno schifo paragonati a quello che erano i Masters prima perché se li prendessimo come linea di giochi a se stante potrebbero anche essere accettabili perché comunque su certe cose sono giocattoli di qualità ma tu non puoi prendere Manet Arms Buzz Off Roboto e mettermi Idron ma chi cazzo è Idron un tizio che va sott'acqua ma non fa niente ma non è interessante perché allora non fare un uomo pesce un uomo balena un uomo orca uno squalo qualunque altra cosa che non sia un tizio che sembra un G.E.G.O. nei Masters non ha nessun senso ha senso se me ne fai uno solo mi fai un super soldato di Eternia come io ho apprezzato il ninja il cowboy apprezzo anche lui ma uno non tutti lì sembrava una squadra militare c'era nocturna l'asiatico che faceva arti marziali con l'arco tirava i calci ok c'era Idron che andava sott'acqua aveva il solito tridente di sto cazzo sembravano i personaggi di Capitan Power tra l'altro c'era quell'altro che volava c'era quell'altro che tirava i pugni ecco forse un paio erano anche graziosi ma ripeto erano tutti umani ma che noia cosa c'era mi pare che ci fosse un robot una specie di robot tra i buoni poi ecco c'era quelle cose ridicole tipo adesso scusate non mi ricordo bene i nomi ma ce n'era uno con tipo il corpo d'elefante con le zanne che uscì ma che roba brutta sgraziata ma come fai a giocare con quella roba lì ma è brutto ma sembravano veramente gli scarti degli scarti degli scarti di schizzi fatti a cazzo di cane che nessuno aveva voluto far passare sino a quel giorno eppure abbiamo visto quante cose non hanno utilizzato nei cataloghi per esempio nei libri della Power & Honor Foundation che ci sono un mare di schizzi di personaggi interessanti cioè si potevano fare veramente meglio e invece no hanno fatto una roba che boh poi le action feature erano tutte calci, pugni schiaffi non c'era quasi più nulla di quello che erano i Masters ora no ma veramente questo è un discorso che mi fa uscire fuori di testa credo in assoluto sia una delle cose che mi dà più fastidio nell'universo dei Masters nella loro vita sia proprio i New Adventures uno spreco infinito vi ho già parlato dello spreco di Bravestar e Capitan Power nell'altro video aggiungo vi avevo accennato dei New Adventures adesso voglio rimarcare questa cosa voglio farvela ben presente che enorme spreco si poteva studiare un po' meglio si potevano fare un po' più simili ai vecchi Masters senza cambiarli così tanto volevano aggiungere delle articolazioni va bene ma lasciami un po' quel senso di forza intatto e soprattutto non modificare così tanto i personaggi voglio dire ma allora non era meglio fare i Meneskeletor più simili ai personaggi del film penso che mi sarebbero piaciuti molto di più perché i personaggi del film per quanto io non li ami troppo sono comunque una sorta di insieme di vecchio look fantasy fantastico fantabarbarico un po' tecnologico eccetera dei Masters mescolato con un concetto guerre stellari spazio un po' più ampio perché vabbè c'erano un po' di elementi fantasy un po' di elementi di fantascienza che voi direte ma i Masters sono così sì va bene però lì era ancora un filino in più in effetti c'era molto guerre stellari visivamente molto io tra l'altro tutte queste cose ve le ho dette un pochino nel video polemica sui Masters dove riassumo un po' la vita l'evoluzione di tutto quello che è successo compresi i cartoni animati altre cose cose uscite di recente diciamo ma qui ci soffermiamo un po' di più su appunto gli sprechi su cosa avremmo voluto eccetera allora una delle cose una delle cose più positive in assoluto che sono successe anni dopo perché poi c'è stato qualche anno di buio totale e che se non mi ricordo bene che anno era non so se era il 99 o il 2000 quegli anni lì la Mattela ha pensato che poteva ristampare i Masters ok praticamente quasi uguali immagino che le differenze siano solo da attribuire a fabbriche differenti quindi magari colori leggermente tipo un giallo leggermente meno giallo un verde leggermente più verde a seconda dei personaggi però di base quello che si voleva fare era riproporre i Masters quindi sono usciti i Men Skeletor il principe Adam Tila Menetarms chi c'era mi ricordo Triclops Clawful Trevjohn ne sono usciti molti molti anche Zoda che era uscito Stratos non tutti purtroppo ma molti moltissimi e in queste ristampe dei Masters e Commemorative io mi ricordo all'epoca ne avevo comprati un bel po' perché soprattutto i personaggi del primo paio di Wave erano difficili da trovare già quando io li cercavo tipo ma venti anni fa sì sì una ventina di anni fa li cercavo e i Commemorative ancora si trovano a prezzi umani all'epoca poi purtroppo li ho rivenduti vabbè quello è stato un grosso grosso errore avrei dovuto tenermeli ma vabbè non ha importanza il discorso è che quelli erano belli avrebbero dovuto continuare perché erano i Masters vecchi erano quelli con ripeto lievissime differenze ma cose quasi impercettibili per chi non conosce così bene la linea però cavolo bello io ho un Buzz Off lì che è un Buzz Off commemorative sta lì insieme agli altri in blister è bellissimo sono contentissimo l'avete anche visto nei video perché l'ho usato l'ho usato per fare degli sketch comici e io non capisco perché non sono andati avanti probabilmente non vendevano non era il momento giusto ma sinceramente io ancora spero che qualcuno si renda conto che proponendo una cosa del genere riproponendo una cosa del genere oggi li venderebbero subito a buoni prezzi a prezzi normali li venderebbero tutti e io non capisco che cavolo stanno aspettando veramente non riesco a capire cosa aspettano è un mistero ecco quella era stata una buona cosa poi è stata interrotta che cosa è successo? allora o è stata interrotta perché stava uscendo la serie nuova immagino o perché non vendeva abbastanza non lo so ecco poi è uscita appunto la serie nuova quella 2000X c'era il cartone animato e quella era graziosa solo che anche lì molto differente ora la cosa importante di quella serie 2000X a parte il cartone che era molto bello è che diciamo una cosa apprezzabile che avevano cercato di fare era proprio il discorso della continuità nell'universo dei Masters che era sempre stata molto molto confusionaria ok? perché perché chi scriveva i mini comics chi faceva il cartone animato chi faceva i giocatori erano sempre persone diverse non si mettevano d'accordo tra di loro perché pensavano erroneamente che noi bambini fossimo imbecilli mentre io invece mi rendevo benissimo conto di queste cose e mi facevano incazzare già quando avevo 8-9 anni ma veramente tanto e quindi poi col passare degli anni è rimasto uno sfacelo di informazioni mescolate fatte male incoerenti cioè ripeto come abbiamo detto l'altra volta a oggi non è ben chiaro per esempio se Blast Attack sia un cattivo di Skeletor o un uomo serpente o che cazzo è non si capisce così come ho letto diversi tipi di origini su determinati personaggi che nel fumetto inglese quel personaggio nasce così nel mini comics nasce cosà nel cartone animato nasce cosù e che cazzo cioè poi vabbè per non parlare del fatto che alcuni personaggi invece non vengono proprio mai approfonditi magari ci dobbiamo accontentare di una sola singola cosa narrata per esempio in un episodio Filmation come mi viene in mente uno di quelli che sopporto di meno è Many Faces che come personaggio lo adoro mi piace tantissimo fin da bambino l'origine che hanno dato al personaggio fa veramente pena ora sinceramente in questo preciso momento non mi ricordo se questa cosa gli è stata data in un mini comic o in un episodio Filmation o una cosa ha influenzato l'altra non me lo ricordo proprio so solo che non mi piace non mi piace il fatto che sia un attore eterniano fa veramente pena come origine di un personaggio così misterioso è affascinante cioè voglio dire hai un super guerriero in armatura tecnologica che ha un volto che può girare e rivelare la forza bestiale del mostro che lui nasconde in questo volto in questo casco oppure la tecnologia avanzatissima del robot hai questi tre personaggi in uno e l'unica cosa che mi sai tirare fuori è è un attore eterniano e usa le facie per fare l'attore no ma seriamente ma che schifo è ma dai ma è come dire che Frosta quando era ragazzina era una gelataia era una gelataia preparava i gelati e poi ha trovato il gran ventilatore refrigerante l'ha fatto lei l'ha smontato utilizzando parti del congelatore dove mette i gelati ed è diventata Frosta e poi si è data anche alla produzione di prodotti surgelati prima pisellini primavera poi patate fritte e infine persino fritto misto attenzione prossimo mese uscirà la paella ma dai ma andate a fare un culo ma che merda ma che cazzo è ma che schifo è ma perché mettono degli imbecilli così a fare delle robe che una volta erano così affascinanti da farci rabbrividire madonna cioè quando i master sono usciti eravamo tutti letteralmente arrapati cioè i concetti erano pazzeschi poi a un certo punto sono diventati una barzelletta ma chi è che ha deciso che dovevamo essere idioti come bambini allora le cose sono due o i bambini americani sono effettivamente idioti ok e qua proprio una ventata di razzismo chi se ne frega e noi invece bambini italiani eravamo più furbi oppure non lo so oppure semplicemente se in un momento c'erano degli adulti che sapevano fare bene il loro lavoro sapevano entrare nella mente dei bambini o semplicemente questa è una cosa importante forse trattavano noi bambini come loro avrebbero trattato gli altri adulti negli anni 70 e 80 noi potevamo vedere delle cose vi parlo di tutto cartoni animati telefilm film che erano destinati a un pubblico maturo ma nel senso che l'eroe era un uomo che esisteva esisteva l'omicidio esisteva la morte esisteva il sacrificio esisteva Artax che sprofonda nella palude nella storia infinita e noi tristissimi esistevano personaggi che morivano esisteva la mamma di bambi tra le fiamme ok queste cose esistevano e noi le accettavamo noi guardavamo Remy noi guardavamo là sui monti con Annette e volevamo buttare giù dal burrone Lucien ok noi guardavamo Mimi massacrata dagli allenamenti guardavamo Kenil Guerriero noi capivamo la tristezza capivamo il sacrificio capivamo che c'era la morte che c'erano delle cose veramente brutte nella vita la guerra la prepotenza però siamo cresciuti con dei valori ora non penso che negli Stati Uniti fossero consci del fatto che noi guardavamo Mimi e le ragazze della Pallavolo e Remy e compagnia bella però dall'altra parte c'erano cose spaventose come Taron e la pentola magica come che ne so magari non spaventose c'erano i cattivi vecchi Disney che facevano veramente paura c'erano che ne so vabbè adesso non mi viene in mente niente ma sapete di cosa parlo avete capito minchia sto cane dai zitto scusate fa caldo le finestre sono aperte e si sentono gli uccellini i cani che abbaiono e sto cane indiavolato però questo cane è incazzato quanto me perché anche lui vuole dire la sua sui masters secondo me ecco nel frattempo mi è venuto in mente che anche per esempio il primo film animato dei miei mini pony era pieno di mostri nel primo episodio di Iridella ci sono dei mostri spaventosi cioè voglio dire anche le cose zuccherose contenevano comunque delle cose paurose ma era bello perché la paura e certe cose realistiche ci facevano apprezzare di più il coraggio degli eroi il colore del mondo in cui vivevano e ci rendevano più equilibrati non c'era bisogno di censurare nasconderci tutto non serviva niente non è il modo di crescere quello perché poi la vita ti prende a schiaffi diventi adolescente e vieni massacrato letteralmente l'adolescenza fa schifo anche per quello perché a un certo punto ti rendi conto che la morte esiste la cattiveria esiste che sei in gioco che non puoi fare tutto quello che vuoi che a un certo punto ti devi prendere le tue responsabilità queste cose si potevano percepire all'epoca comunque madonna sono uscito di brutto da quello che stavo dicendo tornando al cartone 2000X e alla sua linea di giocattoli lì avevano veramente preso tutte le informazioni migliori tutti i concetti migliori eccetera avevano cercato di fonderli in maniera realistica coerente ben strutturata e anche interessante perché no creando una nuova storia quindi la si erano create delle nuove regole per esempio il principe Adam si trasformava in e-man perché evidentemente era un concetto troppo importante e popolare ma con più realismo si trasformava da ragazzino immaturo in uomo adulto quindi anche con un aspetto fisico completamente diverso che già era più logico in più il principe non era vestito come un confetto ma aveva dei vestiti normali ok Tila era sempre una specie di capitano delle guardie nel palazzo di Eternia con il suo padre Menetarms inventore però Menetarms era meno palloso era molto più cazzuto Tila era un po' più giovane però manteneva tutta la sua sensualità quindi non era coperta dalla testa ai piedi tipo suora come l'hanno fatta in Revelation di recente che fa schifo era Tila bella con i capelli ancora più lunghi eccetera eccetera che combatteva menava forte e soprattutto aveva il suo bastone cosa importante e poi per esempio Skeletor era eccezionale bellissimo cattivissimo crudele spietato i suoi sgherri alcuni sono rimasti un po' coglioni ma non tutti e poi la cosa bella che avevano tutti i dimensioni differenti per esempio Clawful era immenso ma veramente un gigante Beastman era un po' più grosso Merman era più longilineo Trap Joe era bello massiccio ma con tantissimi dettagli in più insomma avevano cercato di prendere un po' da tutte le fonti quindi mini comics cartone animato giocattoli magari delle annotazioni fatte in fase di creazione dei personaggi e il tutto era stato amalgamato molto bene devo dire molto bene cioè persino il trollano con la barba mi pare che avesse la barba che si vede a un certo punto nella storia dell'origine di King Grayskull inventato nel cartone tra l'altro bellissimo personaggio mi ricordo quando ho visto la prima volta l'episodio dedicato a King Grayskull sono rimasto veramente scioccato in positivo perché ho detto madonna che figo cioè quest'uomo enorme che non aveva attenzione i poteri di Grayskull venivano da lui i poteri la forza di Man veniva da lui dalla sua come dire dalla sua forza d'animo dal suo spirito di sacrificio dalla sua potenza di guerriero bellissimo veramente bellissimo quel concetto lì che peccato che quel cartone non l'abbiamo finito poteva essere veramente una roba rasentava davvero la perfezione seppur io non apprezzassi alcuni dettagli era davvero poca roba la maggior parte di quello che avevo visto lì mi era proprio piaciuto tanto mi ero persino fatto andare bene il concetto principe Adam orco che sono cose che non amo troppo ma lì stavano abbastanza bene e mi ero detto io capisco che non possono fare un cartone animato come piace a me ovviamente e mi stava bene che ci fossero certi elementi che io magari non amavo troppo ma perché c'erano anche quegli altri che piacevano a me quindi erano riusciti a fare contenti un po' tutti come si deve per una volta ok cosa che invece Revelation non è stata capace di fare seppur l'avessero promesso hanno fatto solo casino però vabbè di questo ne abbiamo già parlato e ne parleremo ancora ora il problema qual è però se il cartone era proprio bello i giocattoli no o meglio i giocattoli un po' come i New Adventures potrebbero anche essere belli se fossero stati qualcos'altro ma purtroppo mentre alcuni personaggi rendevano bene ed erano interessanti nel loro sviluppo come che ne so Buzz off anche se io lo trovo un po' magro ma era bello che fosse un po' insettoide e ci stava anche se io preferisco sempre il vecchio così come il roboto era fighissimo con le sue proporzioni altri erano proprio bruttini in particolare i men Skeletor era molto bello Merman era molto bello Trev Joe era molto bello Beastman abbastanza le ragazze ci potevano stare i Vili e Tila erano discrete altri però erano proprio improponibili a parte il fatto che poi non sono usciti tutti perché per esempio Clawful o Ordak sono usciti solo in versione statua dopo quindi avevamo questa collezione Monka con un po' di personaggi un po' di statue e poi sono finite anche le statue quindi non abbiamo mai visto alcuni personaggi non abbiamo mai visto Blast Attack per esempio e quindi ci siamo ritrovati con una collezione Monka che prometteva di terminare questa collezione Monka con delle statue e poi anche le statue alla fine erano Monka e quindi niente io infatti a un certo punto quello che avevo l'ho venduto in toto ho venduto tutto dato via tutto perché a me di avere una collezione incompleta non me ne frega un cacchio allora io in questo momento sono a dita incrociate con i Mega Constrax Mattel che stanno facendo i Masters piano piano e di recente hanno annunciato Eternia la Torre Centrale con Buzz Off e altre cosucce la Taktrack e Ninja mi sembra sì se mi interrompono anche quella non lo so io potrei rischiare a un certo punto di dire vaffanculo e rivendermi anche tutto quello io voglio una collezione di Masters completa porca miseria al di là di quella vintage poi niente cosa è successo dopo questa linea 2000X qualche tempo dopo hanno fatto i Classics e quella era stata l'ennesima speranza di avere le cose fatte bene e sino ad oggi quella è la linea più vasta più completa più ricca di varianti di personaggi eccetera però anche di questa cosa ne abbiamo già parlato nel video polemica i Classics sono molto belli ma hanno tre problemi il primo è che sono molto grossi quindi prendono un mare di spazio il secondo è che anche quella linea non è stata completata perché considerato che i personaggi erano molto grossi se noi abbiamo centinaia di personaggi disponibili incluse 38 varianti di Mane 42 di Skeletor adesso sparo numeri a caso ma sono davvero tante e una serie di accessori infinitamente inutili non abbiamo il Basha Sours non abbiamo il Blaster Oak capite? siamo riusciti a malapena ad avere la cittadella di recente che a me non piace nemmeno quindi i veicoli ne hanno fatti una manciata cosa hanno fatto? il Talon Fighter il Rotor Stridor il Wind Rider il Butter Run basta mi sembra forse c'è qualcos'altro che in questo momento non mi viene in mente ma poca roba non avremo mai il Road Ripper e allora che cacchio me ne faccio siamo sempre lì poi comunque c'era anche il discorso stilistico nel senso che avevano iniziato a fare i personaggi in un modo per poi farli ancora più realistici troppo realistici ora tra l'altro i Classics hanno un ulteriore problema che poi ha influenzato anche le cose attuali ed è lì che io non sono contento vi spiego la linea dei Classics era stata gestita da un povero coglione che ancora oggi continua a fare figure da coglione su YouTube se lo cercate perché continua a dire cazzate ma c'è una storia lunghissima e non ho nessunissima voglia di parlare di questo scemo di Toy Guru perché tanto più o meno tutti sapete cosa ha combinato quanto è coglione quanto è scemo quanti danni ha fatto certo molta gente diceva ma grazie a lui hanno portato ma non diciamo cazzate e la Mattel che ha fatto i Masters non li ha fatti lui come afferma che lui smetteva di lavorare e poi faceva i Masters nel suo tempo libero non ne aveva pagato ma non diciamo cazzate quante bugie quante balle quante cose scopiazzate quante spiate che si è fatto sui forum quante figure di merda chiunque frequenti i forum dei Masters sa bene le porcherie che ha fatto e quante stronzate ha detto e continua a dire perché dopo tutti questi anni è ancora lì che si vanta che si burla che dice balle sugli altri vabbè allora lui aveva creato si era dato da fare per creare un'ulteriore coerenza tra tutto però aveva esagerato perché mentre nel cartone 2000X erano stati presi gli elementi migliori da tutti i media dei Masters lui non ha fatto questo lui non ha scelto gli elementi migliori lui ha preso tutti gli elementi possibili e immaginabili da qualunque cazzata e li ha infilati dentro in un minestrone completamente insapore che mi ricorda un padellone di cibo cinese dove buttano dentro tutto ma alla fine sa sempre tutto solo di olio ci puoi buttare tutti gli ingredienti che vuoi ma alla fine non sa di niente lui aveva messo troppa roba dentro perché? perché l'idea era poi di vendere più giocattoli tutte le varianti tutti i personaggi più cretini ci siamo beccati un faraone ridicolo che non mi ricordo neanche come si chiama ci siamo beccati dei personaggi con le forbici i trollani delle cose di una bruttezza di una stupidità ma vicron stesso ma che brutto adesso proprio questi giorni lo stanno riproponendo nella linea si chiama masterverse veramente uno brobrio una cosa completamente inutile una porcheria una schifezza proprio per spillare i soldi alla gente ma che cazzo ce ne frega ma che brutto che brutto veramente che brutto ma potrei andare avanti le ore potremmo analizzare le immagini andare avanti le ore ma non sono qui per questo oggi oggi e quindi alla fine c'erano un triliardo di personaggi inutili di concetti inutili di cose che sono state mescolate hanno voluto farle cozzare a tutti i costi per carità alcuni concetti potevano anche essere carini da recuperare io per esempio una cosa che vorrei davvero vedere in forma di giocattolo è uno dei personaggi del contest fatto negli anni 80 che era stato il cui personaggio vincente era fearless photog che fa schifo ma c'era un personaggio che aveva molto più l'aria di un vecchio master che era mi pare si chiamasse brainwave che era questo tizio col testone una specie di gemma sulla testa ed era il testone con un po' il cervello in rilievo ed era un master che aveva poteri psichici fondamentalmente ma quello fatto bene anche oggi potrebbe persino essere carino e soprattutto sembrerebbe uno dei masters un eroe era un eroe quindi vabbè quello per esempio era carino ma voglio dire erano stati fatti anche dei mini comics che potete trovare in giro ci sono anche i poster con le mappe di Eternia di Eteria della Fright Zone e lì potete vedere che hanno infilato dentro di tutto di più ora il problema di tutto questo contesto qual è? tutto questo discorso qual è? che queste informazioni create durante gli anni dei Masters of the Universe Classics quindi dei Motuk con dietro Toy Guru e poi nell'ultimo paio d'anni c'erano altre persone è che queste cose sono diventate canoniche cioè queste cose sono diventate la base di tutto quello che poi è uscito nell'universo dei Masters in qualunque tipo di forma di giocattolo compresi i Mega Constructs che sto comprando io oggi perché? perché la Mattel così vende più roba la Mattel può vendere Sorceress Bianca T la vestita di Rosa il Principe Adam con il costume con la variante blu invece che rosa che è quello dei minicomics di Alcala può vendere il Wonder Bread E-Man che io continuo a pensare che non sia mai esistito una cazzata però nel frattempo continuano a farci giocattoli perché? perché è un E-Man con i capelli castani l'armatura di Zodak in nero tutto lì però è una variante così come da credo le audio cassette racconto fatte in Germania credo sia uscito fuori questo E-Man tutto nero completamente nero che si chiama tipo Anti-Eternia E-Man qualcosa del genere che la gente piace un sacco e continuano a farlo c'è anche gli E-Man slime tutte queste piccole cose le fanno perché? perché hanno già lo stampo e quindi fanno una variante i fan ci cascano li comprano li vogliono assolutamente io vedete per esempio che sono proprio un anti conformista su questo tipo di cose io me ne batto completamente i coglioni di questa roba qua io compro i personaggi della serie originale solo loro un fisto un E-Man uno Skeletor basta una Tila poi a volte per comprare determinati personaggi per esempio di recente hanno fatto una roba tipo Battle for Eternia numero 2 bla 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 c'è dentro Wonder Brady Man Wundar ho chiamato Wundar bellissimo Vulvar bellissimo nome devo dire e poi c'è la Tila tutta vestita di rosa che è apparsa in un mini comic vestita così che emozione bello ci voleva proprio era davvero necessaria una Tila vestita di rosa cioè perché una volta un artista sul mini comic non sapeva come colorarla la colorata di rosa manco fosse un Power Ranger allora oggi noi ci dobbiamo comprare un giocattolino idiota così io quel pack ovviamente l'ho preso per altri personaggi c'era dentro Whiplash per esempio quindi l'ho dovuto prendere c'era Orko che anche se non lo sopporto l'ho preso dai perché in forma di giocattolino è grazioso guardate un po' ecco guardate questa a oggi è la mia collezione di personaggi classici vedete che c'è Tila normale i Mencelo normale armatura da battaglia ma anche pugno di tuono perché era nella cittadella vedete ho la Dea Verde Rammane nella cittadella cioè la cittadella l'ho dovuto comprare per i personaggi Sorceress era nel castello di Grayskull mi sembra non mi ricordo più vedete c'è anche Orko piccolino ma dai è grazioso quindi vedete non sono completamente rompiballe perché cerco di vedere un po' le cose con il contesto del cartone 2000X cioè dove si era cercato di fare contenti un po' tutti ma senza esagerare senza fare cose troppo scene assurde però ripeto il problema grande è adesso che ci ritroviamo con le cazzate inventate da Toiguru da quelli che gli hanno dato retta dopo da quelli che oggi pensano che continuino ad essere delle buone idee di marketing che evidentemente vendono in qualche maniera perché anche gli Origins oggi sono carichi di queste stronzate ci sono un mare di queste cose già uscite addirittura e poi Masterverse che sono gli altri un po' più grossi che sono basati su Revelation anche quelli hanno dentro questi concetti quindi purtroppo oggi ci ritroviamo con questi concetti qua dicevo che hanno praticamente inquinato avvelenato quello che è il canone dei Masters che quindi non è più quello che ci ricordavamo noi o lo è solo in parte ma adesso ci sono dentro anche tutte queste puttanate poi non parliamo del fatto che in Revelation hanno fatto delle ennesime cazzate tipo far diventare King Grayskull afroamericano cambiandogli l'armatura i colori tutto e quindi ci saranno ulteriori cambiamenti col passare del tempo ci ritroveremo ciclicamente questi personaggi insursi inutili brutti modificati o semplicemente che non sono mai esistiti o sono basati su delle cazzate in mezzo ai nostri giocattoli ecco l'unica cosa l'unica in questi anni che secondo me è andata bene è stata diciamo la minuscola produzione di personaggi della Super 7 di tipo vintage perché oltre a fare Hiro e Eldor ok che non erano mai stati realizzati hanno fatto anche questa bella Shira ok che è uguale al cartone animato ma se osservate il suo corpo somiglia a quello di Tila qui c'è Tila ok vedete che è fatta con lo stesso stile questa è una Shira che sta benissimo in mezzo ai nostri Masters questa è una figata ma veramente una figata poi avevano fatto i men Skeletor e Ordak anche loro in stile Filmation ok però che somigliano comunque a dei giocattoli ok vedete sotto ci sono Hiro e Eldor e poi è uscita anche Shadow Weaver che abbiamo già visto in video queste sono cose carine io non ho niente contro Shadow Weaver per esempio è un personaggio Filmation ma è sempre stato interessante affascinante bello il giocattolo l'hanno fatto bene come fosse un giocattolo uscito negli anni 80 perché ragazzi quando è uscito Orko negli anni 80 io l'ho anche comprato lo trovavo divertente era simpatico non Orko del cartone animato il giocattolo mi stava bene che ci fosse un maghetto in mezzo ai Masters avevo comprato persino il principe Adam perché alla fine lo usavo come un altro personaggio fondamentalmente mi piaceva tutto sommato era carino tutto quello che era Masters per me era bello io ero felice quando facevano nuovi personaggi sempre anche quando erano dei super ricicloni non mi interessava anzi li trovavo belli perché come vi ho detto l'altra volta c'era un discorso di familiarità plastica delle forme il giocattolo era familiare e a me stava bene trovavo addirittura intelligente riuscire a creare dei giocattoli cambiando magari gli schemi dei colori o aggiungendo un piccolo accessorio inedito una giacchetta un mantello per creare un nuovo personaggio cioè Mossman è uno dei miei personaggi preferiti ma io l'ho sempre saputo che era Beastman ricolorato con una copertura di muschio finto di flock di plastica ma era geniale era geniale e anche Stinkor era geniale lo sapevo che quella era l'armatura di Mechaneck in arancione e che sotto c'era Merman ma col fatto che avevano cambiato i colori l'avevano trasformato in un personaggio completamente nuovo a parte il fatto che l'odore di paciuli che si portava dietro mi piaceva un sacco ma era geniale quindi mi stava benissimo capite? per cui la Super 7 devo dire ha fatto veramente tanta roba purtroppo questa cosa è durata pochissimo chissà quanti bei personaggi potevano uscire hanno poi perso la licenza e poi ci siamo ritrovati con Revelation con gli Origins tutte ste puttanate e io sono triste perché sono brutti non riescono proprio a piacermi non riesco proprio a digerirli ora l'altra volta vi ho detto che ho comprato Ninja Bianco sto ancora aspettando che arrivi qui entro nella parte finale del video perché voglio parlarvi ancora di due cose allora intanto c'è un problema grosso che ora stanno uscendo tante cose stanno cercando di completare la linea bene per chi lo fa a me non interessa stanno facendo personaggi che non sono mai usciti prima o che sono usciti solo magari per il classico insomma stanno facendo delle robe più o meno inedite anche se sono comunque concetti già visti sono comunque cose prese da dei disegni dai fumetti quindi roba completamente completamente inedita per ora a parte una specie di uomo rospo che è basato su una delle cose del castello di Grey una delle creature del castello di Grey che però è brutto per ora nulla allora questo è il penultimo discorso del video che faccio e questa è una roba che veramente dico ma possibile allora la mia domanda è ma quando è che vi decidete a fare dei personaggi nuovi ma nuovi da zero non un imen del cazzo che fa parte delle leggende del pane in cassetta non ti la ricolorata di rosa nuovi completamente nuovi un uomo giraffa un che ne so una creatura delle ombre con tre teste alleato di Skeletor un fungo mannaro qualunque cosa ma fate dei personaggi nuovi ma perché nessuno è capace di inventare dei personaggi nuovi ma sul serio la Mattel pensa che proponendo un personaggio completamente inedito nessuno lo comprerebbe lo comprerei persino io in forma Origis se fosse fatto bene ovviamente perché il discorso qual è? quello che la gente non capisce spesso che io vedo e dico ma è possibile che non ci arrivate e che non basta prendere adesso stavo scherzando prima non basta mettere una testa di giraffa su un personaggio fargli il corpo giallo e lo butti lì così ci vuole un concetto dietro i Masters erano studiati bene avevano le armature giuste con gli accessori giusti con il concetto giusto c'era la gimmick voglio dire prendiamo Whiplash per esempio in apparenza sembra un personaggio molto semplice da realizzare no? alla fine è un uomo drago un uomo rettile un uomo coccodrillo un uomo iguana un insieme di tutte queste cose ma Whiplash aveva la gimmick che era la sua coda la sua coda frusta ok? e poi aveva questa lancia con cui poteva combattere addirittura in Italia era stato definito una specie di selvaggio barbaro crudele delle tv barbare un uomo drago barbaro eccetera e aveva un volto un po' particolare quindi era molto riconoscibile molto affascinante così come Clowful Clowful voi direte era un uomo granchio un crustaceo sì ma attenzione sotto aveva la pelle umana quindi non era solo un uomo granchio non era un crustaceo bipede umanoide sembrava un uomo che aveva subito una specie di maledizione ed era stato trasformato solo in maniera parziale altrimenti perché mettersi le mutande no? e poi oltretutto scusate ma Clowful aveva le sopracciglia nere ma quando mai avete visto un granchio con le sopracciglia voi? nere poi capite? io da bambino immaginavo questo tipo di cose così come mi ricordo credo di aver fatto una connessione nella mia mente a scontro di titani dove a un certo punto c'è come si chiamava Caliban forse non mi ricordo più come si chiamava Cal- no cavolo dico Calos Ulos non mi ricordo più vabbè c'era un tizio cattivo che a un certo punto per una specie di maledizione si trasforma in una creatura mostruosa bestiale ok? quando ero bambino avevo pensato Clowful deve essere successa la stessa cosa l'hanno trasformato è diventato così perché è una maledizione mentre Whiplash immaginavo che fosse nato così che fosse proprio una razza una specie come Basov per esempio Clowful mi immaginavo questa cosa ecco una cosa mi piacerebbe fare un giorno è parlarvi di come io vedo i masters i film che mi sono fatto sin dall'infanzia come me li immagino proprio come questo discorso di Clowful che vi sto facendo ecco quindi perché non inventate nuovi personaggi cosa aspettate? perché nessuno ha la fantasia di creare di nuovi personaggi? perché non vi mettete lì e cercate di capire che cosa sono i masters e perché ci piacevano? non potete fare semplicemente un uomo lucertola a parte che di lucertola ce ne sono troppe non potete semplicemente fare un uomo in armatura con un elmo non basta bisogna fare di più ma fate dei personaggi nuovi per l'amor di Dio qualcuno si decida a fare dei personaggi nuovi sono più di vent'anni che non vediamo uno straccio di roba nuova e anche quando qualcosa è stato inventato era sempre un altro trollano un altro uomo scheletro un altro beastman niente di particolare recuperare certi concetti potrebbe già essere un inizio e un pochino lo stanno facendo ma non basta ci vuole roba nuova e qualcuno si deve decidere a farlo infine qui vi faccio un attimo di pubblicità allora in passato vi ho parlato di una linea qui sul canale video che ho dovuto togliere che erano i Lords of Power se vi ricordate allora questa linea è stata creata di recente da Emiliano Santa Lucia e da altri suoi due colleghi ok un tedesco un americano ora non sono qui a fare un video su questo ma quello che volevo dire è che i Lords of Power a un certo punto stavano per uscire poi hanno avuto problemi diciamo quei diritti alla Mattel perché somigliavano troppo a certi concetti che fanno parte del mondo dei Masters quindi c'era un personaggio che era troppo simile a Keldor un personaggio che era troppo simile a Sharella Lords of Power è un marchio già registrato che io sappia o comunque è stato utilizzato dalla Mattel per fare dei primi concetti dei Masters perché prima di chiamarsi Masters of the Universe si dovevano chiamare Lords of Power quindi c'era tutta una serie di cose così e loro hanno dovuto modificare quando stavano per lanciare la linea tutti i personaggi li hanno modificati e adesso stanno per uscire adesso proprio in questi giorni ho visto delle foto che la fabbrica in Cina sta producendo fisicamente i giocattoli io li ho comprati ho comprato tutta la prima wave loro hanno già annunciato una sorta di wave parallela con tre draghi molto belli potete guardare in giro allora la linea di giochi ha cambiato nome non si chiama più Lords of Power si chiama Legends of Dragonor io non avevo sinceramente voglia di rifare tutto il video preferisco farvelo quando ho i giocattoli tra le mani anche perché non manca molto per cui ve ne parlerò e bene perché ho già visto che sono cose molto belle quando avrò fisicamente i giocattoli tra le mani ora perché vi parlo di questa cosa in un video dei Masters perché nel vecchio video che avevo fatto sui Lords of Power facevo presente che Emiliano i soci hanno recuperato molto bene i concetti e lo spirito vero dei Masters hanno fatto dei personaggi completamente inediti a parte un paio che comunque vogliono essere un omaggio a Keldor e Sciarella e stanno lanciando un mondo nuovo con personaggi nuovi che però somigliano tanto a dei Masters sono i più simili possibile ai vecchi Masters quando li metteremo accanto poi faremo dei test sembreranno dei Masters sembreranno la linea dell'88 mai uscito 88 89 90 al posto di quelle cioffecche delle New Adventures e io di questa cosa sono felice spero che rimangano sempre con quella filosofia in testa spero che riescano a fare questi personaggi nel tempo che vadano avanti perché già il fatto che stanno per uscire sei personaggi e poi subito dopo i tre draghi e ho anche letto che sono già al lavoro sulla Wave 2 sono veramente curioso sono veramente felice non vedo l'ora perché è un po' come dire la Mattel non ci è riuscita ma lo stanno facendo loro per fortuna e siccome hanno le competenze e loro amano i Masters alla follia e grazie al loro lavoro sono stati scoperti anche tanti documenti tanti concetti negli anni cioè è veramente gente che ci mette il cuore e che ha l'esperienza necessaria per fare queste cose io sono ottimista sono ottimista sono ottimista sono contento mi è un po' dispiaciuto qui lo dico pubblicamente che siano stati costretti a cambiare alcune cose perché il personaggio femminile eroico che avevano fatto doveva essere una specie di sciarella in teoria il nome era diverso Zarella mi pare l'avano chiamato ma doveva in teoria essere quella ora hanno dovuto cambiare i colori io credo quasi sicuramente che prenderò il personaggio attuale modificato e lo colorerò per farla diventare sciarella credo adesso bisognerà un po' vedere e lo stesso farò col personaggio che doveva essere Keldor credo perché sinceramente mi sono reso conto che mi piaceva molto questa connessione con concetti dei masters esistenti e l'aggiunta di personaggi inediti era un po' come se davvero la linea continuasse un po' come nell'ultimo anno in cui erano usciti King Randor e Sorceress che erano personaggi che conoscevamo già e finalmente avevamo in forma di giocattolo ma erano anche usciti personaggi completamente nuovi come Scareclaw Ninja e Clamp Champ e Blast Attack per esempio capite cosa voglio dire un po' di già visto realizzato in giocattolo e un po' di inedito per comunque dare un po' d'aria fresca un po' di novità quindi speriamo bene speriamo bene sono ansioso di ricevere i giocattoli se non ho capito male dovrebbero arrivare tra luglio e agosto speriamo quindi speriamo da qui alla fine dell'estate di potervi fare un bel video farvi finalmente vedere questi giocattoli dal vivo e finalmente li potrò vedere anch'io e speriamo che vadano avanti che vada tutto bene perché abbiamo veramente bisogno perché abbiamo bisogno dei Masters fatti come una volta abbiamo bisogno di giocattoli di qualità abbiamo bisogno di idee nuove di personaggi nuovi perché noi altri vecchi rompicoglioni veri fan dei Masters fino al midollo ci siamo rotti le palle ecco detto questo vi anticipo subito che questo è l'ultimo video sui Masters per qualche settimana penso che i prossimi saranno luglio ma ci sono tantissimi video in arrivo non vi preoccupate cerchiamo di occuparci anche di altri giocattoli ok detto questo vi ringrazio per aver guardato questo video e spero anche i precedenti due perché ripeto in teoria potete guardarli tutti e tre in fila se ce la fate se avete il coraggio e vi saluto alla prossima ciao ciao